Oggi presentiamo il nuovo plate carrier della Templars Gears, il CPC ROK, una delle principali caratteristiche che è estremamente leggero. Hanno optato per un laser cut in combinazione con un tessuto estremamente resistente il quale mi sta dando una grande affidabilità. Sono già diversi mezzi che lo sto testando senza nessuna cura diciamo e il prodotto si mantiene nelle sue caratteristiche. Abbiamo dei camera bound laterali caratterizzati da una fascia elastica il che rendono molto comodo il suo utilizzo e allo stesso tempo hanno un'anima interna che li rafforza. Sono aggiustabili dalla parte posteriore, facilmente raggiungibile grazie a una parte in vetro. Per concludere la parte frontale abbiamo quattro sganci rapidi sugli spallacci e sui laterali dei camera bound e un frontal plate rimoldibile o sostituibile in modo molto semplice e rapido il quale ci consente di eliminare, di rimuovere se necessario anche le clip dal fronte del plate. Abbiamo anche qui degli spallacci regolabili nella loro lunghezza e possiamo aggiustare e fissare l'imbottitura dello spallacci. Un'altra cosa molto interessante è la pouch per la radio che hanno sviluppato la quale hai la possibilità di essere adattata, modificata in base al tipo di sistema di comunicazione utilizzato. Altra caratteristica molto interessante a favore di questo plate è la possibilità tramite due tip posteri posteriori, di rimuovere rapidamente il pannello posteriore in modo da avere la schiena libera e se necessario di poterlo sostituire con un altro panel anche se equipaggiato in base a quella che è un'altra cosa che è la possibilità di farciare. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione!